Emiliano Sciascia, candidato alla presidenza del quarto municipio per il Partito Democratico. Quali sono le iniziative che intendete portare avanti in questo caso perché lei è il presidente uscente e perché i cittadini domenica dovrebbero votare? Perché a partire dal 20 dobbiamo rimetterci subito in carreggiata, dobbiamo subito metterci ventre a terra e lavorare perché abbiamo importantissime scadenze davanti. Dobbiamo far partire e concludere dei lavori all'interno di scuole importanti del municipio per le quali abbiamo trovato dei finanziamenti proprio municipali, quindi non abbiamo aspettato il comune e soprattutto perché si tratta anche di asilinito e quindi dobbiamo garantire che a settembre i bambini possano entrare a scuola in piena sicurezza e poi perché dobbiamo avviare una serie di opere pubbliche fondamentali. In sostanza non possiamo perdere altro tempo. Abbiamo un assestamento di bilancio che ancora non è stato votato dal comune e abbiamo le idee chiare però su dove dovranno andare quelle risorse economiche una volta che saranno passate e votate anche nel municipio. Non possiamo perdere tempo appresso alla compilazione di liste, dossier, studiare fascicoli ma non lo diciamo noi, lo dicono i problemi reali della città e del municipio. Quindi il voto che chiedo per il 19 è un voto a sostegno della forza di governo che abbiamo rappresentato in questi anni e per una maggiore sicurezza da parte dei cittadini che i problemi verranno affrontati nel minor tempo possibile e che sarà garantita l'efficienza necessaria per mandare avanti la nostra macchina amministrativa. Fabio Fois, candidato alla presidenza del secondo municipio per il Movimento 5 Stelle. Quali sono le proposte che voi mettete in campo e perché i cittadini domenica dovrebbero votare lei? Il nostro territorio del secondo municipio ha molte criticità, quindi le proposte per risolvere sono veramente tante. È un territorio molto disomogeneo, passiamo da San Lorenzo, Piazza Bologna, Parioli, Villaggio Flaminio, Nomentano. Insomma, quindi ci sono molti problemi e molte criticità anche differenti. Diciamo che ci sono delle priorità, per esempio la priorità è quella della trasparenza, cosa che non è stata fatta nelle precedenti amministrazioni. Tutto è molto fumoso all'interno del municipio. Quindi noi vorremmo rendere trasparenti tutte le procedure municipali, istituzionali, di tutti i lavori che faremo all'interno delle istituzioni. Per esempio, molti cittadini ci chiedono di avere un accesso agli atti molto facilitato. E noi faremo in modo che l'accesso agli atti sia totalmente residuale. Cioè, nel senso che comunque il cittadino basta collegandosi al sito internet per prendere informazioni su tutte le cose fatte all'interno del municipio, abbia risposte immediate. Naturalmente abbiamo problemi anche di cura del verde, tutela del verde e di ordinare manutenzione. Sembra che l'ordinare manutenzione e la tutela del verde siano state totalmente abbandonate. Quindi noi faremo una mappatura molto intensa di tutte le criticità per risolvere i problemi nel minor tempo possibile e avere un quadro generale della situazione. Vi chiedo di ridarci fiducia, come ce l'avete data, per farci arrivare al ballottaggio, perché noi potremo portare il vero cambiamento all'interno delle istituzioni, perché ormai da troppi anni si vedono sempre le stesse facce e gli stessi partiti, che ci vengono a proporre le soluzioni ai problemi che hanno generato loro. Quindi forza, coraggio, votateci che cambieremo insieme a voi Roma.